Carissime amiche, carissimi amici, ben ritrovati sul canale di Simonetta, sul mio canale. Grazie a tutti voi perché mi seguite, perché mi telefonate, mi contattate, quindi grazie veramente del vostro supporto. Oggi voglio insegnarvi un rituale che non è per l'amore ma è per attirare a noi tanto denaro, tanti soldi, tanta abbondanza. Quindi facciamo questo lavoro per far sì che il denaro arrivi a noi, come si dice, nelle palme delle nostre mani, nelle nostre mani. Quindi lo potete fare se avete un'urgenza, se avete situazioni debitorie da pagare, se vi servono dei soldi, chiaramente per qualsiasi motivo, se non guadagnate abbastanza, se avete un'attività per dire e i clienti non arrivano. Potete farlo per molti scopi. Ovviamente lo scopo è quello di far sì che l'abbondanza sotto forma di soldi, di denaro venga da voi. Allora, cosa ci serve? Ci serve un piatto di lavoro. Quindi, come sempre, voi vedete il mio piattino preferito, prendete pure un piatto di casa vostra, qualunque piatto va bene. Poi prendete un pochino di zucchero. Io l'ho messo qui in questo bicchierino per farvi vedere. Prendete della cannella in polvere. Cannella in polvere, qualunque marca va bene, non c'è nessun problema. E poi, vedete qua che l'ho messo dietro, un bicchiere grande, se avete un bicchiere grande è molto meglio, di acqua, di acqua di lavandino, di rubinetto, di acqua di bottiglia, va bene, qualunque tipo di acqua. L'importante ovviamente è che sia acqua fresca e pulita. Un cucchiaino che poi vedrete a cosa vi servirà. Vi dico subito, questo lavoro lo potete fare quando volete. Non ci sono limitazioni a livello universale, a livello magico, perché potete farlo in qualsiasi giorno, in qualsiasi orario, in qualsiasi fase lunare. Non c'è alcun problema, scegliete voi quando fare questo lavoro. Allora, come si inizia? Si inizia così. Prendete la cannella, non ne serve molta, ne serve un pochettina. La mettete nel palmo della mano, tipo un cucchiaino, eh? Un cucchiaino è una dose sufficiente. Poi aggiungete un'altra dose di zucchero pari più o meno a un cucchiaino. Quindi non ne serve, come vedete, tantissimo. E con questa mistura, eh? Con questa mistura qui, con le mani sopra il piatto, voi cominciate a sfregare le vostre mani, a sfregarle come se le stesse lavando, eh? Come se stessi lavando le mani. E andate a sfregare nelle palme della mano, nelle vostre mani, questa mistura di zucchero e di cannella, che sono due attrattivi straordinari. Pensando, pensando al denaro, pensando a tutto il genere di abbondanza che può arrivare a voi, quindi pensate al denaro che arriva. Non dovete pensare da dove arriva. Il denaro può arrivare da qualsiasi fonte, non c'è alcun problema, perché l'universo sa da dove far arrivare le cose, eh? E continuate a pensare, a mentalizzare, come dico sempre, il denaro, l'abbondanza, la ricchezza, mentre vi sfregate bene le vani, le vostre mani. Quindi potete anche riprendere un pochino di cannella, rimetterne un altro pizzichetto qui, potete rimettere un altro pochino di zucchero, ecco, in questo modo, e continuare a fare questa operazione. Il denaro viene da me, il denaro arriva da me, i clienti arrivano da me, l'abbondanza arriva da qualunque parte. Fate delle affermazioni di questo genere, mentre vi sfregate, proprio come se le stesse lavando, le vostre mani. Quindi andate a cospargere molto bene le vostre mani con questa miscela, con questa mistura di zucchero e cannella. quando vi sentite pronti, quando avete visualizzato questa mole di denaro, di banconote che arrivano nelle vostre mani, che arrivano nella vostra vita, senza pensare da quale fonte, a meno che non abbiate un negozio, quindi, in questo caso, dalla clientela, voi prendete il bicchiere che abbiamo preparato prima, il bicchiere di acqua, bicchiere bello capiente, come vedete, che cosa fate? mettete nel bicchiere un pochettino di cannella, qui più o meno come sempre un cucchiaino, non ne serve tanta, ne serve una quantità che non è così grande, un cucchiaino di cannella, aggiungete un pochino di zucchero, sempre più o meno come un cucchiaino di zucchero, come ne è andato anche tanto, ma va bene lo stesso, e mescolate questa miscela di zucchero e cannella, mentalizzando sempre il denaro che arriva da voi, il denaro e l'abbondanza che arrivano da voi, il sollievo di avere proprio la possibilità di comprare, di pagare quello che vi serve, i clienti che arrivano da voi, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è collegato all'abbondanza, al denaro, quindi fate questa miscela, mescolando l'acqua dove abbiamo messo lo zucchero e la cannella. Ecco, abbiamo fatto questa miscela. Allora, la fase successiva di tutte le operazioni è questa. Prendete questo bicchiere, questa mistura, andate ovviamente in bagno nella vostra vasca, nella vostra doccia, vi fate un bagno normale, cioè vi passate con sapone normalmente, il famoso bagno igienico normale, vi sciacquate e poi dal collo in giù, prendete questo recipiente, questo bicchiere, versate questa miscela dal collo in giù, quindi dal collo verso le spalle, verso la schiena, lungo le gambe, lungo la pancia, lungo tutto il vostro corpo, fino a esaurire tutto il contenuto del bicchiere. non dovete sciacquarvi, perché l'energia deve rimanere su di voi, potete ovviamente tamponarvi con un asciugamano, quindi potete asciugarvi, ma non dovete sciacquare via. Così si conclude questo lavoro veramente meraviglioso, perché funziona benissimo, funziona molto bene. Potete anche rifarlo per alcuni giorni di seguito, quindi potete farlo per uno, due, tre, quattro, cinque, sei giorni di seguito, vedete voi, perché chiaramente l'energia si sbloccherà ad ognuno in modo diverso, una cosa è certa, che con questo tipo di trucco, con questo tipo di magia, il denaro si sblocca, il denaro arriva. Quindi mi raccomando, se volete avere più abbondanza, se volete risolvere delle situazioni legate, ai soldi, se avete bisogno di soldi, di clienti, fate questo lavoro, fate questo lavoro. Per il momento è tutto, spero di essermi spiegata bene, spero che abbiate capito come si fa. Ultima cosa, magari qualcuno potrà dire, ma cosa ne facciamo della cannella e dello zucchero che è caduto nel piatto? Beh, niente, lo buttate via tranquillamente, lavate il piatto e lo riutilizzate. Lo stesso fate con il bicchiere, lo lavate e lo riutilizzate per la volta successiva. Va bene? Un bacione grande, buon lavoro, tanto a Shea, tanta fortuna a tutti voi. e la visione. Grazie. Grazie.